Marmi Romanelli, giusto? L'impresa del papà che adesso è stata presa dal figlio, però si fa aiutare dal papà, il papà fa il pugno, il sostegno. Ed è per noi, a parte che loro sono due nostri, lui è un fondatore addirittura delle nostre associazioni, Marco è anche nel nostro gruppo dirigente, quindi è anche un dirigente della nostra associazione della CNA ed è anche presidente del gruppo Giovani Imprenditori, anche se non è proprio più giovanissimo, ma non si dice. Ti ho portati qua perché oltre ad essere un esempio di impresa artigiana che è già la seconda generazione, è un'impresa che si trasforma, che si è trasformata, che nonostante ci sia ancora presente il fondatore, con il figlio ha saputo innovare e sta innovando ancora e fa delle lavorazioni molto particolari che io non so spiegarvi assolutamente, perché mi spiegherà lui perché non sono in grado. Ed è un campo un po' particolare che è il marmo, il marmisti, che cosa c'entra nel marmista con l'officina meccanica che abbiamo visto? Secondo me c'entra, perché la filosofia di lavoro è più o meno le stesse e capirete come anche la filosofia dell'artigiano, avete visto D'Amelio che vi ha spiegato, era lì e non vi avrebbe mollato più i suoi progetti eccetera eccetera, è lo stesso qua, c'è molta tecnologia adesso, non è più il marmista di una volta, il manufatto dove ci voleva la mano sicuramente, oggi è il disegno CAD, oggi è controllo numerico e il tutto all'aperto che è uno dei problemi principali di questa attività. Infatti loro fanno le ferie solamente a Gennario quando la temperatura scende in maniera così consistente che l'acqua si gela, giusto? Giusto. Fino ad allora si gela, non si gela più neanche l'acqua perché l'hanno risolto anche il problema dell'acqua. Hanno risolto anche il problema dell'acqua, quindi è una disgrazia totale. Si diceva che non la facciamo più. Io mi fermo qui, Marco è a vostra disposizione, l'apprendista invece continua a lavorare. Mi scaldo le mani. Lui è il professor Flori, scusami, di meccanica. Lui è il professor Butera dell'ITI che insegna disegno e in più fa anche, non ha tempo perso, ma mi ha detto alcune cose, è un professionista della funge. Il campanone era questo piccolino, ma sembrava enorme, perché c'erano due macchinari. Beh, via. Quella fresa lì, che è rimasta lì dove era, era una lucida costa che è stata sostituita brutalmente tre anni fa, quasi quattro. Il cuore, diciamo, della lavorazione è fatto dalle ferie, nel senso che tutto il materiale, che sia blocchi, lastre, filagne, tutto quello che è il materiale che vuole aggrezzo a lavorare, passa obbligatoriamente sotto la fresa. La fresa è una fresa da taglio, quella lì è solo taglio. Questa qua è un po' più particolare, non è proprio un controllo numerico, ma è come se fosse un controllo numerico. Non è un controllo numerico perché non ha il centesimo, cioè non legge il centesimo. Da qui si parte e si taglia, in generale tutti i lavori sono tagliati, poi ci sono lavori più particolari, meno particolari, cioè i davanzai, le scale, le edilizie in genere si taglia. Poi da qui, non vediamo niente, si possono fare diverse lavorazioni con questa presa qua. C'è il taglio singolo, cioè in automatico e in manuale. In manuale è la nuova come se fosse la Playstation, però anche indietro... Ci sono tagli multipli, cioè tagli ripetitivi. Qui si può impostare diverse misure. Io gli dico che ho bisogno di un pezzo da 300, poi ne ho bisogno di un pezzo da 500. qui ho messo 7 pezzi, comunque va bene uguale, avevo bisogno di un pezzo da 200. Qui avevo tutta una programmazione. Poi ci spieghiamo un po' la base della presa. Gli dico dove inizia e dove finisce la lastra, qui glielo dico io, cioè fisicamente glielo do io, cioè mi sposto con la testa da una parte all'altra del banco, gli dico dov'è il pezzo e poi lavora. E' un po' calma la nuova che c'è cibo e poi taglia. Grazie. 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 Grazie.